Cari amici, voglio oggi parlare di un santuario dedicato alla Madonna che storge a Tevigio nell'Alta Valdivara in comune di Varese Ligure. La chiesa parocchiale di Tevigio dedicata ai santi Quirico e Rocco è infatti annoverata tra i santuari mariani della diocesi della Spezia, Sarzane e Brugnato, con festività da sempre celebrata il giorno dell'apparizione della Madonna. Il 26 maggio 1432, infatti a Caravaggio, località della Lombardia in provincia di Bergamo, la vergine era apparsa Giannetta De Vecchi, donna di circa 30 anni vittima dei maltrattamenti del marito alcolizzato. Sollecitata dalla visione, la donna esortò gli abitanti alla preghiera e alla penitenza. Una fonte era sgorgata misteriosamente nel luogo dell'apparizione e questo ad esprimere la potenza sanante della grazia di Dio. In quel luogo fu poi costruita una cappella, poi demolita e sostituita dall'attuale santuario, la cui costruzione iniziò nella seconda parte, nella seconda metà del XVI secolo. I frequenti contatti con persone provenienti dalla Lombardia, sia per motivi religiosi che commerciali e di lavoro. Ad esempio la costruzione della torre del Picinino a Varese fu compiuta da maestranze lombarde, tre anni e solo tre anni dopo l'apparizione. E sia a seguito della carestia del 1529 che costrinse molti lombardi a mendicare nella valle. Probabilmente favorirono questi fatti favorirono la diffusione tra la popolazione del culto della Madonna di Caravaggio. Il parroco di Tevigio, don Mario Perinetti, conferma che è incerta l'origine della devozione alla Vergine di Caravaggio, già diffusa però in vallata nei primi anni del Settecento, per la numerosa presenza di pellegrini provenienti dai vari paesi del circondario. Ma il parroco riferisce anche due possibilità. L'ipotesi più plausibile si fonda su un avvenimento storico sociale di somma importanza. Verso la metà del Quattrocento, infatti, fu costituito giuridicamente l'Istituto della Mezzadria, una forma di rapporti giuridici tra il conduttore del fondo e il proprietario che permetteva a molte famiglie di liberarsi dalla vita comune della corte per la coltivazione e questo avvenne principalmente nella pianura padana. Con Mezzadria ci si riferisce alla classica divisione paritaria degli utili che cominciò a diffondersi a partire dal basso medioevo in seguito all'abolizione della servitù della gleba. La presenza di molti cognomi provenienti dalla Lombardia e dall'Emilia rivela che molte famiglie si trasferirono in Liguria dove la mezzadria aveva dimensioni di tipo unifamiliare. Qui i poderi di modeste dimensioni non richiedevano l'impiego di molte braccia e bastava quindi il lavoro quotidiano di una singola famiglia. Qualcuna di queste famiglie provenienti dalla bassa padana potrebbe aver portato con sé il culto a Maria di Caravaggio e potrebbe averlo propagato. La seconda ipotesi è legata al servizio ministeriale di alcuni sacerdoti, sacerdoti nativi del territorio della Valdivara che in abbondante numero si recarvano nei secoli XVII e XVIII a svolgere funzioni religiose come durante la novena dei morti nel periodo quaresimale nella bassa cremonese e bergamasca. Sarebbero quindi stati loro ad importare la devozione. A parere del parroco le due ipotesi sembrano rispondere sia a chi mette in evidenza come fu il popolo a diffondere il culto della Madonna di Caravaggio, il popolo colpito dal fatto che la vergine apparve a Giovannetta una donna del popolo, una donna maltrattata, sia a chi sotto la spinta di San Carlo Borromeo sosteneva che fu il clero a farsi carico di promuovere tale devozione. Secondo i documenti conservati nell'archivio parrocchiale di Tevigio, il 15 agosto del 1718 fu acquistata a Genova la statua della Madonna e nel settecento la venerazione nei confronti della Madonna di Caravaggio che gli abitanti di Tevigio mostrarono sin da subito si espresse nella costruzione di un apposito altare con esposta la statua della Madonna e anche nella costruzione di una confraternita che è dedicata proprio alla beata vergine di Caravaggio. Per culto i fedeli prendevano l'acqua che scorreva sotto l'altare e accorrevano poi in gran numero in occasione della festa del 26 maggio. Questa grande devozione emerge anche dalle relazioni compilate in occasione delle visite pastorali dei Vescovi di Brugnato come quelle di Niccolò Leopoldo Lomellini e di Domenico Detatis. Nel 2018 in occasione del trecentesimo anniversario dell'arrivo della statua in parrocchia il comitato parrocchiale organizzò un evento a Tevigio che vede l'intervento del cardinale Antonio Maria Vegliò presidente merito del pontificio consiglio della pastorale per i migranti. Il cardinale in tale occasione incoronò la statua. Una tradizione antichissima è coltivata ancora oggi dai tevigesi quella dei panetti benedetti. Il tutto nasce dalla circostanza che un'antica via che dalla riviera portava in Emilia transitava presso l'antica chiesa di Tevigio dedicata a San Quirico dove esisteva un ricovero per i pellegrini. Il parroco ci ricordò infatti come la tradizione dei panetti ha la sua lontana origine nella consuetudine dei monaci di San Colombano che nei punti segnati dei loro percorsi lasciavano un luogo di rifugio per i viandanti che trovavano di che ristorarsi con pane e con acqua. Di generazione in generazione è stato tramandato che in San Quirico vi era proprio una cella con queste funzioni. A metà del Cinquecento il torrente Stora in piena aggredì la chiesa di San Quirico facendola franare e distruggendola ma i panetti di Caravaggio furono accolti nella nuova chiesa nel ricordo della tradizione persa nel tempo e tramandato ormai quasi come leggenda. Oggi come allora questi panetti sono preparati a mano da tutti i parrocchiani e questo qualche giorno prima della festa fatti semplicemente con farina di grano e acqua a forma di stellina e cotti nel forno che è situato sul lato della chiesa. Dopo la benedizione sono poi offerti ai fedeli che partecipano alla messa. Secondo la tradizione questi piccolissimi panni azimi difendono dalle malattie. Anche a Caravaggio per secoli e sino agli anni 50 del secolo scorso erano distribuiti dei piccoli pani impastati con l'acqua del sacrofonte e poi benedetti chiamati michini. La festa del 26 maggio era ed è molto sentita sia dai parrocchiani sia dai pellegrini provenienti dai paesi vicini che partecipano veramente numerosi e anche dalle confraternite della diocesi che si riuniscono in pellegrinaggio la sera che precede la festa. In chiesa poi sono conservati anche numerosi ex vuoto donati dai fedeli per le grazie ricevute. Sulla partecipazione alla festa di Tevigio di numerosi fedeli provenienti da tutto il territorio voglio ricordare un curioso episodio. Come dicevo il culto della Madonna a Tevigio fu introdotto nel 1718. Quattro anni dopo anche il parroco di Comuneglia paese che sorge nella testata occidentale della valle decise di comprare una statua della Madonna di Caravaggio e dirigere una cappella ed iniziarne la festa. Fu anche portata dell'acqua alla chiesa in modo che nella nicchia sotto la statua scorresse sempre un ruscello così come accadeva Tevigio e in ricordo del miracolo dell'apparizione della Madonna a Caravaggio. La motivazione dell'istituzione della nuova festa a Comuneglia fu che molti dei parrocchiani il 26 maggio andavano al santuario di Tevigio disertando così la festa di San Filippo Neri che si festeggiava in quella parrocchia parrocchia dedicata a San Pietro nella stessa data. Il 26 maggio si portavano in processione due statue quella della Madonna e quella di San Filippo Neri. Il culto della Vergine di Caravaggio è tuttora diffuso nelle valate del Taro e del Vara. Questi ultimi anni si assiste anche a una ripresa dei pellegrinaggi verso il santuario di Tevigio. Per chi volesse partecipare è un'occasione anche per ammirare la splendida chiesa curata con amore dai parrocchiani e la statua della Madonna recentemente restaurata. Un caro saluto a tutti.